È dal 6 maggio del 2016 che non si hanno più notizie di Maria Kindamo, l'imprenditrice 44enne originaria di Laureana di Borello, sperita nel nulla all'alba lasciando tre figli nella disperazione. La sua famiglia non si è mai data per vinta e ha continuato a spronare le autorità affinché si facesse luce su un palese caso di Lupara Bianca. Quel giorno a dare l'allarme un operaio che ha visto l'auto della Kindamo davanti all'ingresso della tenuta e diverse macchie di sangue. Era proprio il 6 maggio, lo stesso giorno nel quale un anno prima il suo ex marito Ferdinando Puntoriero si era suicidato forse perché non sopportava la rottura del loro matrimonio. Sospettate per quel fatto tre persone, Salvatore Ascone di 53 anni di Limbadi, un operaio rumeno di 30 anni e un nipote di Ascone all'epoca dei fatti minorenne, che vennero arrestati nel luglio dello scorso anno perché avrebbero manomesso le telecamere installate nella villetta di Ascone, proprietario della villetta che si trova davanti al cancello della tenuta in cui è stata rapita la donna per impedire la registrazione delle immagini della strada e dell'ingresso della tenuta della Kindamo, agevolando così gli autori materiali dell'omicidio che operavano sapendo di poter agire senza essere ripresi. Ma appena un mese dopo il Tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Vibo Valencia. Ora un nuovo sviluppo nella vicenda. Ad affermarlo sul proprio profilo Facebook è l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Kindamo, che afferma che la mattina del 6 maggio del 2016, giorno dell'omicidio, le telecamere di sorveglianza posizionate presso il distributore Tamoil di Laureana di Borrello registrano le immagini di una Golf grigio chiara con a bordo un solo conducente con tetuccio apribile, cerchi in lega, ammaccatura sul parafango anteriore sinistra, targa poco decifrabile, che con andatura costante circolare effettuava, fino alle 6.58, ben 10 transiti a salire e scendere intorno al distributore. Il velicolo, sempre nello stesso orario, appena passa la Dacia Duster bianca di Maria Kindamo, inizia a seguirla a velocità sostenuta e da allora non transita più presso la Tamoil. L'avvocato sostiene che con ogni probabilità potrebbe aver avuto il compito di intercettare, osservare e segnalare gli spostamenti di Maria Kindamo nel percorso verso la sua tenuta. Si tratta con evidenza di un elemento di fondamentale importanza per la comprensione degli eventi, sostiene infine il legale della famiglia Kindamo, ed è per questo che, pur consapevoli delle oggettive difficoltà, non ci arrendiamo nella ricerca della verità. Chiediamo l'aiuto a chiunque sia conoscenza di elementi utili, perché Maria e la sua famiglia meritano giustizia.